Buongiorno a tutti e buongiorno Maria Serena. Buongiorno a voi. In questi giorni è uscito in libreria e online il tuo libro intitolato Fuori Roma, una guida edita da Neppe Edizioni nella collana Stilmente curata da Daniela Di Francesco. Com'è nata l'idea di questo libro? Allora questo libro è il frutto di un periodo un po' buio per tutti, quello dei giorni gialli legati alla pandemia, ma da un evento brutto ho pensato di far nascere qualcosa di bello, di buono, quindi approfittare di un periodo in cui avevamo una libertà vincolata e non potevamo viaggiare liberamente per scoprire il Lazio, una regione assolutamente affascinante dove ci sono dei borghi, degli itinerari in natura, dei luoghi del mistero che veramente sono sorprendenti, non mi sarei mai aspettata di trovare tanta bellezza. A chi è rivolto Fuori Roma? Allora questo libro è rivolto a tutti i viaggiatori, io li chiamo viaggiatori sognatori, soprattutto a coloro che amano sperimentare il viaggio a 360 gradi, se notate c'è la possibilità attraverso il QR code di collegarsi all'interno proprio con i video della web tv viaggi e volti, quindi vedere proprio in video le immagini oltre a fruire delle informazioni e delle foto della versione cartacea, quindi diciamo un pubblico giovane che ama viaggiare e spingersi anche off the beaten track, fuori dai soliti sentieri turistici ordinari. Quindi quali sono le particolarità rispetto a una guida turistica tradizionale? È una guida che non segue una logica diciamo geografica, quindi non suddivide il Lazio in macro aree perché ci sono già tantissime guide in quel senso, è una guida all'insegna del cuore, io ho amato iniziare con una frase di Goethe, l'uomo vede nel mondo ciò che egli porta nel cuore, quindi una guida che ci stimola a vedere la bellezza ovunque, anche nei piccoli dettagli, nei borghi, attraverso i luoghi della natura, attraverso i luoghi del mistero che sono una cosa che a me affascina tantissimo. Bene, che volto emerge quindi dal Lazio che tu narri? Allora, innanzitutto il volto di una regione verde dove c'è davvero tanta bella natura, pensate che adesso mi trovo qui nella riserva di Decima Malafede a contatto proprio con questo bellissimo prato fiorito, quindi oltre a una natura spettacolare, laghi, montagne, faggete, il Lazio è ricco di piccoli borghi gioiello, penso veramente a dei borghi della Tuscia ma anche borghi della Sabina che è una zona che adoro nel Lazio e poi ci sono i luoghi del mistero, luoghi pieni di energia che risalgono alla civiltà degli etruschi o dei falisci e che davvero ancora non sono stati decodificati, quindi è un'emozione arrivarci perché sono davvero incredibilmente avvolti da una atmosfera unica nel suo genere. E quali sono infine i luoghi che ti hanno colpito di più? Beh, certamente Corchiano con tutte le sue case ipogee, un borgo che sembra quasi avvolto da un'atmosfera fantasma, anche il borgo di Celleno è davvero unico nel suo genere, penso poi alla faggeta sui Monti Cimini, patrimonio onesco, così come la faggeta di Oriolo Romano dove sembra quasi di essere in un'atmosfera di Excalibur e poi non so, ricordo fra i luoghi del mistero visitati la città di Norcia che è la piccola Petra del Lazio, davvero un luogo del mistero unico nel suo genere, piuttosto che l'antica Norba, l'antica Norba che la piccola Pompei del Lazio affaccia su questa meravigliosa veduta della pianura pontina. Bene, quindi come ci salutiamo a questo punto? Ci salutiamo invitando tutti naturalmente a acquistare, se volete, il libro in libreria online. Ringrazio Daniela Di Francesco della Collana Stilmente per aver creduto nel mio progetto, ringrazio tutto il team di persone che hanno collaborato con me a livello di comunicazione, di marketing e anche per la stesura del testo, quindi veramente un lavoro di equip favoloso, vi invito a continuare a seguirci nei nostri viaggi sul canale YouTube Vaggio e Volti, follow us and subscribe the channel e follow us on Instagram too, seguiteci anche su Instagram. A presto, ciao!